ah che dispiacere che dispiacere che dispiacere dopo esservi rotti le scatole sul prima parte del ripasso adesso affrontiamo vi tocca anzi digerire la seconda parte del ripasso sulla regione scandinava allora siete a pagina 67 del solito libro ok rimpiangerete il volume 2 il volume 2 fatto bene volume 3 una schifezza allora l'enonimo sveghe deriva dal nome della più importante tribù dei vichinghi gli sveas o gli svioni forte perché in latino scania invece la chiamavano questa zona la bandiera vestito da guerra interessante nel 95 europea non fa parte della nato non nato no 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 nato capitale stockholm monarchia costituzionale corona svedese parla lo svedese che è una lingua germanica e quindi indoeuropea 14esimo posto di isu per l'isù l'italia il 26esimo va bene qua ci parla della tundra settentrione insomma l'avete capito quindi la della svezia ci interessa poco e niente il clima fa freddo soprattutto a nord ecco fondamentalmente diciamo che una fondamentalmente una tundra con foreste di conifere eccetera pianura ma laghi laghi e foreste un po come la finlandia assomiglia molto a finlandia e poi vedremo guardate che ci sarà nella verifica proprio una domanda di associare il panorama associare il panorama alla alla nazione l'islanda è un deserto ghiacciato finlandia e svezia sono una distesa di foreste e laghi la norvegia è boschi sì ma la norvegia mi sa che non l'ho neanche messa sì la norvegia boschi sì ecco montagne fondamentalmente la danimarca invece è una pianura coltivata ecco danimarca a sud quindi può permetterci l'interessante geospot questo riquadro allora il sole di mezzanotte chiruna nella regione del nordland è la città più nord della svezia il sole sorge gli ultimi giorni di maggio e tramonta i primi di luglio il sole di mezzanotte si prolunga per più di un mese ma quello che ci interessa è che chiruna è una città mineraria chiruna assegnatevelo pure produce il 90 per cento del ferro necessario alla all'europa ok il 90 per cento del ferro del fabbisogno europeo di ferro eccolo qua ok è una città praticamente tra l'altro che si sta spostando la stanno spostando perché la miniera di ferro è talmente estesa talmente vasta che sta praticamente stanno scavando sotto la città e quindi rischiano che questa città sprofondi insomma il terreno è diventato instabile quindi man mano che la miniera avanza spostano spostano la città di alcuni chilometri hanno proprio spostato anche la chiesa alcuni edifici altri li hanno abbandonati o distrutti ma pian piano ho letto da qualche parte che concluderanno il trasferimento nel 2100 insomma ci mettono un po però si stanno organizzando allora è importantissima quindi la città mineraria di chiruna allora il ferro svedese viene appunto trasportato a narvic in norvegia che è lì vicino è vicinissimo proprio sono un attaccato all'altro perché questo perché d'inverno non si riesce a trasportare questo ferro per ferrovia sarebbe una cosa troppo complicata e costosa prendere tutto sto ferro portarlo per ferrovia fino al sud della svezia e poi venderlo nel resto farlo girare nel resto d'europa né si può usare le navi perché chiruna è molto all'interno e molto lontana dal mar baltico il mar baltico d'inverno ghiaccia è gelato e quindi non ci può essere il trasporto invece narvic è lì dietro l'angolo ed è sul mare sul mare della norvegia che non ghiaccia mai e quindi diventa molto semplice portare il ferro per ferrovia quello sì ma una breve ferrovia da 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 chiruna a narvic che è un porto ed a narvic in giro per il mondo tramite le navi allora avete girato pagina e avete appunto le due zone climatiche il clima è molto rigido a nord meno 15 la temperatura media dove il sole non appare all'orizzonte d'inverno e a sud un po più umido e piovoso alci renne volpi artiche il lemming che sono simili ai criceti un po più grossi che sappia allora della della svezia dovete ricordare fondamentalmente la capitale stoccolm ok e chiruna nell'estremo nord andate andate nord 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 trovate chiruna vedete che è lontana chiruna dal mar baltico dal golfo di botnia mentre invece è vicinissimo a narvic anche se qua non è segnato però si vede che la norvegia è molto sottile ci si arriva facilmente allora molto saltate le prime righe molto significativa la presenza di immigrati stranieri l'otto per cento provenienti dall'europa dell'est balcani medio oriente per il lavoro attratti dal lavoro la lingua ufficiale lo svedese lingua germanica religione più diffusa protestante luterana anche molti anche se molti sono atei considerevole minoranza islamica al 4 per cento stoccolm venezia del nord non è vero è amsterdam chiamata venezia del nord adesso non esageriamo tutte venezia del nord è che comunque bella bella città anche se mi dicono sia una bella città ma non c'è niente di particolarmente interessante non c'è un monumento particolare tipo la torre di piso al colosseo il ponte vecchio di firenze ok il piazza san marco il duomo di milano non ci sono queste cose c'è poco e niente però è una bella città dicono chi c'è stato allora serie di isole penisole centro politico bla 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 allora interessante perché ogni anno siamo la terza riga l'accademia di svezia ogni anno conferisce prestigiosi premio nobel tranne quello per la pace i premi nobel che sono i premi nobel allora pronti con la matita allora i premi nobile sono stati istituiti da alfred nobel signora alfred nobel che si era arricchito con l'invenzione della dinamite ok questa invenzione la dinamite l'aveva inventata per i lavori in miniera per semplificare il lavoro in miniera ma poi ovviamente la dinamite è stata utilizzata anche per scopi bellici in guerra e lui ovviamente non era contento di questo fatto sta che ha istituito questo premio in denaro che viene assegnato da questa accademia delle scienze di stoccolma della svezia di svezia accademia non di scienze chiedo scusa accademia di svezia viene conferito ogni anno c'è il premio nobel per la medicina quello per la fisica quello non la fisica educazione fisica fisica lo studio della materia poi dicevo fisica economia per la letteratura quello per la pace appunto in norvegia poi aspetta per la matematica l'ho detto mi sembra matematica fisica chimica matematica fisica chimica lui era un chimico nobel era un chimico la letteratura e poi la pace l'economia ecco prima nobel anche per l'economia e poi non mi ricordo qualche altro ce n'è allora dice la storia vabbè tantissima neutralità durante i conflitti dai boschi alle miniere poco poco terreno per le colture perché fa freddo rese elevate ma poco terreno vattenfall centrale idroelettrica vattenfall fall come in inglese fall significa cascata infatti fall to fall vuol dire cadere e vatten è il plurale mi sembra di water water acqua vatten in norvegese in svedese vedete che è molto simile nella lingua germanica vattenfall cascata d'acqua è mica cascaldino che deve cascare l'acqua allora sviluppate l'allevamento dei bovini dei suini no davvero non avrei mai detto bovini e suini forte ma soprattutto le renne e gli animali da pelliccia questo è interessante perché perché gli animali da pelliccia è vero ci sono anche in italia ma l'italia non è famoso per l'allevamento di animali da pelliccia né la francia è famosa per l'allevamento di animali da pelliccia ok mentre invece la svezia e la norvegia sì risorsa fondamentale del suolo sono i boschi e le foreste leggi statali molto severe regolano lo sfruttamento attivissima florida industria per la produzione del legno del legno sottolineato in cinque colori cinque colori cinque fatto in cinque colori perché perché mi dite per favore un'industria svedese che ha a che fare con il legno secondo me ce l'avete in casa alcune cose alcune cose della Ikea eh sì la Ikea è un'industria di mobili svedese ok perché perché svedese perché hanno tanto legname quindi sono si sono inventati queste industrie il sottosuolo svedese praticamente dico di ferro 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 ve l'ho detto prima il 90 per cento del fabbisogno europeo abbondanza di energia idroelettrica e nucleare hanno permesso un grande sviluppo nell'industria siderurgica meccanica cantieristica allora industria siderurgica l'acciaio si dice che l'acciaio migliore al mondo sia quello svedese acciaio con le quali poi producono alcune delle marche automobili di automobili alcune automobili tra le più sicure al mondo c'è stato degli anni in cui la macchina dichiarata più sicura al mondo era appunto la macchina svedese quali sono queste automobili svedesi allora la volvo che però ho cancellato perché è stata diciamo così aspetta eh ah no perché c'è scritto sotto più stupido allora va bene la volvo automobili ok acquistato da un'azienda cinese però in svezia la sede centrale vi dice poi c'è sempre dell'industria meccanica la saab che costruiva macchine fino a pochi anni allora costruiva aeroplani ha sempre costruito aeroplani poi è passata a costruire automobili ha smesso di costruire automobili e continua oggi a costruire aeroplani ok aeroplani della saab poi abbiamo meccanica tra l'industria meccanica abbiamo anche industria per la difesa quindi carri armati aerei la svezia è neutrale non appartiene alla nato e quindi diciamo si deve arrangiare diciamo così per la produzione di armamenti quindi aerei carri armati aerei della saab giusto e poi i cannoni bofors famosi diciamo nel settore sono famosi i cannoni bofors o se non ve lo ricordate pazienza non casca il mondo non casca il mondo eh poi abbiamo altre importanti società l'electrolux elettrodomestici gli aspirapolvere per esempio ma anche lavastoviglie altre altre insomma la ericsson telefonia poi abbiamo la ikea per l'arredamento hm l'abbigliamento hm con la famosa scritta rossa la volvo per l'automobile eccetera che cosa si sono dimenticati si sono dimenticati i camion i camion della scania ok pensate quanto sono colte queste persone usano il latino per dare il nome alle loro aziende e le nostre aziende fanno la pubblicità con stupide frasi in inglese se guardate la pubblicità recente italiana è tutto in inglese il pet food for pet e poi cosa che dicono priority desk la dose booster ormai non sono più capaci di usare l'italiano ebbene gli svedesi usano il latino e infatti scania è il nome latino di scandinavia e quindi sa camion della scania e poi volvo in latino vuol dire rotolare io rotolo giro le ruote praticamente che cosa non di cosa non hanno parlato signore e signori non hanno parlato del gruppo musicale degli abba che sono stati fra la fine degli anni 70 per tutti gli anni dai metà seconda metà degli anni 70 inizio 80 sono stati uno dei gruppi musicali più popolari in europa gli abba dovrei avervi fatto sentire qualche canzonella se non l'avete presente andate a cercare su youtube cercate abba vi salta fuori milioni di risultati vi saltano fuori benissimo e con questo abbiamo finito anche la svezia passiamo adesso in finlandia la finlandia il suo vero nome è suomi ok suomen tasavalta repubblica repubblica dei laghi letteralmente adesso vediamo nome finlandia in termini anglosassone significa terra dei finni popolazione di origine asiatica se vabbè asiatica non è che avevano gli occhi a mandorla che colonizzò la finlandia eccetera eccetera l'endonimo suomi endonimo vuol dire il nome che usano loro suomi la lingua ugrofinnica vuol dire paese dell'acqua e dei laghi paese dei laghi fondamentalmente ugrofinnica quindi è una lingua parente parente all'ungherese dopo lo scriviamo ve lo spiego dopo allora vi spiego la bandiera nel 95 aderito all'unione europea non nato non nato ok capitale Helsinki una repubblica parlamentare usa l'euro l'unica che usa l'euro di queste è un po complicato quello sì la tabellina sarà un po complicata è ricordarsi chi è monarchia chi è repubblica chi usa l'euro chi usa la corona chi è nella nato chi è chi non è nella nato chi è nell'unione europea chi no però dovete saperlo punto moneta euro lingua finlandese svedese ma sopra il finlandese ci interessa perché è ugrofinnica scrive l'avete scritto insomma ce l'avete è una lingua non indoeuropea simile all'ungherese ok fa parte delle lingue uralo altaiche per capirci isu ventitresimo posto pensavo meglio però quello che ci interessa ambiente fisico e clima sono 150 mila laghi ce l'avete metà la paragrafetto sottolineato 150 mila sono tantissimi circondati da boschi quindi come il panorama della finlandia laghi boschi boschi laghi laghi boschi 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 lago 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 bosco bosco lago una casetta bosco bosco laghi laghi due casette boschi laghi un paesino boschi laghi laghi boschi un villaggio eccetera eccetera o una città corso breve non hanno le risorse idroelettriche infatti usano più che altro il carbone il petrolio per avere energia elettrica ok sono ben livella finlandia diversa dagli altri paesi non ha tutte le risorse non piove non ha la corrente del golfo chiaro allora basta il clima e continentale freddo continentale freddo vedete non è atlantico almeno sulle coste la norvegia atlantico invece qui è continentale freddo per metà dell'anno il territorio è ricoperto di neve nei mesi invernali fiumi e laghi si ghiacciano diventano vie di comunicazione vi ho spiegato che lì da quelle parti hanno usato i carri armati e addirittura un treno sul lago allora il 70 per cento del territorio è boschi e foreste a nord la tundra artica eccolo qua paesaggio sotto lo vedete bene il sud è più popoloso e ci credo della cartina dovete sapere solo helsinki e in alto in cima in cima in cima in cima vedete c'è scritto lapponia la lapponia dove vivono i sami ok e vedete sul circolo polare artico una piccola curiosità c'è rovaniemi lì c'è l'ufficio postale di babbo natale sì sì per non deludere i milioni di bambini che scrivono letterine a babbo natale lì all'ufficio postale ricevono le lettere le aprono e rispondono alle letterine dei bambini per non deluderli che carini che sono che carini che carino allora mi mandano è l'ufficio postale di rovaniemi a babbo natale allora maggioranza della popolazione di origine finnica sto leggendo sotto allora la minoranza dei sami è stanziata nord conserva una sua cultura nomade in parte basata su renne e pellicce pellicce e renne renne e pellicce bevono latte di renna mangiano carne di renna e si vestono con pellicce non solo di renna ovviamente vivono con tende fatte di pelle di renna o vivevano finlandesi sono per lo più protestanti e sono bilingue perché usano finlandese appartiene all'antico ceppo delle lingue urofini che vi dice lo svedese ma perché ripete le cose che ha già detto va bene che mi ripeto anch'io allora molto avanzato dal punto di vista sociale per l'istruzione il 7 per cento del pil noi neanche il 2 per cento una roba del genere pazzesco allora pari opportunità uomini donne Helsinki tanti saluti bella Helsinki bello tante foreste Helsinki è bello vedere Helsinki d'estate d'inverno invece è buia 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 credo che abbiano due ore di luce al giorno fu sotto il dominio svedese repubblica quella roba lì la vedremo in storia con calma allora periodo di crisi saltate la l'agricoltura non ci interessa più di tanto e quello che ci interessa sono le foreste ok l'industria del legno e il trasporto del legname tramite la fluidazione scrivere fluidazione lavorazione e trasporto l'industria del legno mettete trasporto con la fluidazione cos'è la fluidazione semplicissimo butto i tronchi nell'acqua e l'acqua mi riporta dove devono arrivare facile economico produzione cellulosa e la carta tantissima carta moltissima carta che noi usiamo arriva dalla finlandia sottolineare in quattro colori ok e sostituiscono gli alberi cioè non è che li buttano giù tanti saluti per ogni albero che buttano giù ne seminano altri elettronica telecomunicazioni come la nokia ok il telefonino della nokia ecco lo so il mio telefonino è vecchissimo devo cambiarlo anche perché ormai è fuori andrà fuori cioè sarà obsoleto non potrò più usarlo e quindi mi toccherà ok quindi nokia che prende il nome dal paese di nokia e poi altre industrie come la fiscars con la cappa fiscars fanno strumenti per la lavorazione del legno guarda un po risorse minerali e come questo quello quell'altro ma soprattutto uno dei produttori mondiali più importanti di cobalto usato nella caratteristica nell'aeronautica ma attenzione anche nell'industria nucleare e nella medicina per fare contrasti per l'uso delle apparecchiature a raggi x e altre cose del genere credo poi quattro reattori nucleari turismo e forte crescita perché si va a sciare cosa c'è da aggiungere in finlandia la sauna hanno inventato la sauna o meglio sono famosi per la sauna finlandese voi sapete no si scaldano dentro la sauna sapete cos'è una sauna vero questi gabbiotti con il carbone che fa un c'è l'acqua versata sulle braci ardenti un sacco di vapore sudano come bestie e poi si buttano escono seminudi in costume da bagno nella neve corrono al primo lago ghiacciato che trovano si buttano nell'acqua gelida e poi si asciugano sopravvivono sono abituati e poi babbo natale se volete aggiungerlo babbo natale faccio una piccola pausa perché ok siamo rimasti alla danimarca pagina 76 danmark significa marca dei danni il popolo di origine svedese del sesto secolo danenbrogg panno danese nel 73 nell'unione europea e appartiene alla nato quello si aggiungete lo scrivetelo bello grande nato ok monarchia così come la capitale monarchia costituzionale usa la corona danese ed è la lingua il danese c'è una lingua germanica e quindi indoeuropea chissà se vi entrerà in zucca questo concetto delle lingue indoeuropee quinto posto al mondo per indice sviluppo umano quindi per come si sta bene a vivere da quelle parti secondo me noi non ci staremmo così bene però è siamo abituati al sole allora che cos'è che voglio dirvi mi sta sfuggendo qualcosa ah sì le monete ragazzi o usano l'euro è della finlandia tutti gli altri usano una corona corona danese corona svedese corona islandese corona norvegese danimarca allora pianura è caratterizzata da un clima atlantico perché gli arriva anche lì un po di corrente del golfo la danimarca è formata dell'alpenisola dello gilland illand julland non so come si pronunci da quattro isole maggiori no non dovete sapere non vi preoccupate 500 isole minore un occhio di isole 500 isole allora fanno parte della danimarca l'isola fire oer fire oer vuol dire isole lontane al sud dell'islanda è la groinlandia l'isola più grande del mondo vi ricordo che anche l'islanda apparteneva alla danimarca territorio è pianeggiante 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 non ci sono montagne infatti sono le biciclette pochi fiumi assenza di pendio pochi fiumi non sono montagne ci sono fiumi è ovvio saltate tutto il resto salta 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 clima atlantico masse di aria umido favorendo le precipitazioni fitte nebbie ma non aveva già detto che ah no era nel titolo va beh basta studiarsi il titolo pianure catalizzate non clima atlantico fine mamma mia e che ci vuole la nascenza allora eccolo chi o guardate nella cartina si vede il ponte soloresund ok a sud della danimarca c'è la germania allora guardiamo la danimarca schieto scusa la groinlandia questa isolona la vedete con lo stretto di danimarca stretto di danimarca mi risulta canale di danimarca ok che si trova appunto tra le due isole tra la groinlandia e l'islanda allora dunque religione protestante luterana 90 per cento danesi minoranze di turchi irachene di origine di religione musulmana moltissimi però sono atei come abbiamo detto densità è tra le più elevate della regione vabbè abitano in città alta qualità di vita vabbè questo si legge copenhagen porto dei mercanti allora cosa c'è di interessante guardate questo libro non lo riporta guardate che bella foto ma non vi fa vedere la cosa più famosa della danimarca che è la famosa sirenetta quindi dove avete copenhagen scrivete nel porto dove c'è anzi dove c'è la parola porto scrivete sirenetta la statua della sirenetta e poi c'è anche il castello di amalienborg che è la sede della regina credo che ci sia la regina sì allora tra le maggiori mete turistiche europee piste ciclabili sottolineate piste ciclabili appunto ve l'ho spiegato vanno sempre in bicicletta molto attento all'ambiente erano c'erano i cimbri e teutani sconfitti dai romani si insiderano gli uti da cui viene utland ok poi danesi poi vichinghi sovranità sull'inghilterra norvegia e svezia insomma la neumark è stata una superpotenza a un certo punto vabbè occupato dell'esercito tedesco nella seconda guerra mondiale monarchia costituzionale nella nato e fa parte dell'unione europea ma non ha l'euro e vabbè settore primario allevamento di suini e bovini prodotti sono tre beni maggiormente esportati dal paese latte con il latte si fa il burro salato vedete anche lì tutti hanno l'allevamento di bovini ma perché ci fermiamo qua perché è famoso il burro salato danese e anche olandese però è in effetti l'agricoltura è molto avanzata poi abbiamo la pesca ok aspettate ma la findus della findus ne abbiamo parlato ci è scappata la findus la findus è in svezia eh sì la findus findus sì in svezia mi sono dimenticato di rimettervela ricordatevi pagina 71 aggiungete findus i bastoncini findus grazie bastoncini sofficini della findus chi non li conosce allora la pesca appunto abbiamo detto e poi abbiamo birra birra aggiungete birra tuborg e carlsberg carl carl come carl o magno z come genitivo sassone berg che nelle lingue germaniche significa montagna quindi carlsberg vuol dire montagna di carlo piacerebbe avere una montagna eh col tuo nome allora petrolio gas naturale del mare del nord anche loro no come la norvegia come il regno unito come l'olanda ok o tutti che succhiano petrolio del mare del nord dal sotto il mare del nord centrale termoelettrica energia eolica eolica ok chiuso interessante appunto sotto vedete le paleoliche eh usa gas naturale petrolio biomasse per generare elettricità e calore chissà perché devo mettere la scritta in inglese ma siete ridicoli siete ridicoli ridicoli ok ridicoli allora ehm poi dell'industria ci ricordiamo la lego ok la lego 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 scritto lego dai lego e poi c'è scritto vedi retro infatti noi giriamo pagina e troviamo geospot legoland bill un della seconda attrazione qui si trova il parco dei divertimenti della lego che iniziò a produrre i mattoncini negli anni trenta del novecento cioè quasi cent'anni fa e poi vi faccio ricordare eh di tivoli tivoli scrivetelo sotto da qualche parte tivoli famoso parco di divertimenti che prende il nome da una villa di adriano eh se non mi interessa il settore terziario fate meno finta che non esista quello invece che mi interessa guardate ricostruzione in mattoncini lego di nieavn nie nuovo haven 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 porto ok nelle lingue germaniche l'antico porto di copenaghen divertente eh l'antico porto significa nuovo porto bello bene tesorucci abbiamo finito qui a pagina 80 con pagina 80 finito chiuso basta fine del problema ok sono un po di paginette dovete studiarle tempo ce n'è utilizzatelo quindi da pagina 56 a pagina 80 molte sono immagini e grafici quindi niente di drammatico poi usate le mie ripassi usate le immagini che vi ho dato che vi darò che avrò dato all'epoca insomma il problema non dovrebbe sussistere bene se non ci vediamo insomma comunque auguri di buon 2022 visto che siamo ormai alla fine dell'anno ciao ciao